La gara è stata quasi noiosa perché Bagnai è stato troppo perfetto. Partendo dalla seconda fila comunque è stato molto bravo a buttarsi all'esterno perché ha trovato linea libera e frenando forte si è portato subito davanti. E in due curve ha dato quei sei decimi a Martin che per tutta la gara non è mai riuscito a chiudere il buco, anzi lo ha mandato in crisi sul finale dove Bastianini ci ha regalato un sorpasso spaziale. Adesso si fa interessante, dopo le novità di mercato direi quasi inaspettate perché comunque un Martini in Aprilia è stato abbastanza diciamo rapido il cambio e l'ufficializzazione subito così ha un po' spiazzato tutti. Questo fa sì che anche se non c'è l'ufficialità si prevede un Marquez in rosso sicuramente. A questo punto Bastianini non si sa dove andrà, mi piacerebbe rivederlo magari perché no sulla Ducati con Gresini. E niente adesso mi aspetto un bel finale di stagione, un bel finale peperino.